Oggi siamo al mercatino rionale Santa Restituta di Manfredonia con la candidata sindaca Maria Teresa Valente della coalizione CONMD, Manfredonia Democratica, domenica 7 si vota, noi la incontriamo a poche ore dal voto. Come è andata questa campagna elettorale? È andata bene perché la gente ha voglia di cambiare, Manfredonia ha voglia di rinascere e noi siamo pronti in questo, siamo pronti a riavviare la macchina amministrativa. Una lunga campagna elettorale con Maria Teresa Valente che ha girato in lungo e in largo la città soffermandosi soprattutto con i commercianti, come in questo caso. Che cosa chiedono? I commercianti lavorano sodo e lavorano del loro, chiedono però più attenzione, quindi sicuramente ci sarà da parte mia una maggiore apertura nei loro confronti. Il comune sarà aperto per quanto riguarda sia i commercianti ma anche per tutta la popolazione perché quello che ho detto più volte durante la campagna elettorale è che il comune deve diventare amico dei cittadini. Le richieste più prestanti dei cittadini invece? Più pulizia della città sicuramente al primo posto, strade asfaltate perché è impossibile attraversare la città per via delle troppe buche, più legalità, meno atti di vandalismo e poi più aiuto a tanta gente in difficoltà e un rafforzamento da questo punto di vista dei servizi sociali. La Manfredonia che immagina per i prossimi cinque anni? Una Manfredonia che possa farci sentire orgogliosi di essere manfredoniani perché la nostra città è ricca di potenzialità, tutte da valorizzare, è una città da rilanciare, abbiamo storia, cultura, tradizioni, è una città che vuole rinascere davvero da tutti i punti di vista. Signora, lei per la prima volta voterebbe una donna sindaco? Ieri mi hanno telefonato e ho detto vorrei che uscisse come sindaco una donna, quindi mi farebbe piacere vedere la donna dove arriva, dove non sono arrivati gli altri. Maria Teresa Valente la conosce? Sì. La voterebbe? Sì. Lei invece voterebbe una donna come Maria Teresa Valente? Sì, sicuramente sì. Perché? Perché bisognerebbe provare, una volta uno, una volta l'altro e poi vediamo chi è la migliore. Ecco, e oggi che cosa si sente di chiederle? Io mi sento che devo votare per una donna. E che cosa le chiede a Maria Teresa Valente? Di fare dei lavori per Manfredonia. Tipo? Di tutto, delle strade specialmente, perché le strade è un disastro. Se hanno voglia di lavorare, se esce, che ben venga. Lei invece la voterebbe una donna come Maria Teresa Valente? Sì, la voterei. Perché? Nulla si crea senza una donna e soprattutto è una donna di Manfredonia. E allora, Maria Teresa Valente, la gente vuole votare donna? La gente vuole votare donna e di questo sono felicissima, perché bisogna dare l'opportunità ad una donna di cambiare la città, di mettersi in gioco, di dare una nuova prospettiva, una prospettiva di futuro a Manfredonia. E soprattutto occorre una donna di Manfredonia che conosca le problematiche quotidiane di questa bellissima ma complicata città. E a poche ore dal voto qual è l'appello che si sente di dare? Io invito tutti ad andare a votare perché il futuro della nostra città è nelle nostre mani, nelle mani di ognuno di noi. Quindi andate a votare.